Le ultime due vertebre dorsali e delle prime due lombari. Il rene riceve il sangue dalla... Che ne dici, ti piace? Non è male, ma non mi dice molto. Io la trovo talmente figo che solo a guardarlo mi viene la pelle d'oca. È questione di pelle, appunto. La funzione principale dei reni è quella di depurare il sangue dai molti cataboliti, fra i quali principalmente l'urea. Se c'è qualcuno che ha qualche domanda da fare... Professore, scusi, ma quando ti scappa la pipì non sai come trattenerla. Da che cosa dipende? Ma perché vuole trattenerla, signorina? La faccia, la faccia. In fondo a sinistra. Silenzio. T'ha fregato. Devi usare argomenti più sottili e convincenti se vuoi conquistarlo. C'è qualcuno che ha qualche domanda seria? La faccia, la faccia, la faccia. La faccia, la faccia, la faccia, la faccia. Vedrà. Questa la rimetterà in sesto in pochi giorni. Ora l'accompagno a casa. Aspetti, mi fa ancora male. Coraggio. Si alzi. Ahi ! Su, su, cammini. Non posso.